Il Comune di Cremona si sarebbe già ripreso dall'inizio di quest'anno la gestione delle 800 case popolari affidate all'Aller con la convenzione voluta dalla Giunta Perri e costata 250 mila euro, ma non era ancora pronta la gestione integrata delle manutenzioni, dei bonus gas ed energia e dei servizi sociali. Il cambiamento partirà quindi dal gennaio prossimo. Io credo che questa sia una scelta importante dell'amministrazione, uno dei punti qualificanti dell'agenda amministrativa. Era un tema che noi avevamo già posto quando eravamo all'opposizione al precedente mandato amministrativo, chiedevamo con forza che il Comune si riappropriasse per intero degli alloggi di sua proprietà. L'emergenza abitativa infatti è diventata sociale, con circa 300 nuclei familiari a rischio in seguito all'aumento delle nuove povertà, ai tagli di utenze e alle minacce di sfratto. L'amministrazione deve prepararsi a reggere l'urto di una domanda di interventi sociali fatta sì imponente, quindi ha atteso un anno per garantire interventi tempestivi. Il Comune intende coinvolgere anche l'unione dei piccoli proprietari di immobili, in vari casi a loro volta in crisi per gli affitti non pagati, e integrare il lavoro con il mondo delle associazioni e le parrocchie per prevenire i casi di disagio. Entreranno dunque in azione anche i tutor territoriali. La funzionaria Donatella Boccali ha segnalato in una riunione di commissione ieri in Comune che è aumentata in questi ultimi anni la zona grigia di chi non riesce a pagare le bollette, pur non avendo bisogno dei servizi sociali. Casi drammatici diffusi anche se l'Interland milanese e il Bresciano stanno peggio. L'amorosità a Cremona è arrivata al 12%, raddoppiando in due anni per un ammanco di 30.000 euro annui. A Cremona però l'invenduto immobiliare è elevato. 2.500 gli annunci con 2.000 case in vendita e 500 in affitto, mentre il 34% dei cremonesi vive in affitto. Sono 300 gli edifici inutilizzati. Per l'opposizione Luigi Amore del centrodestra ha chiesto di considerare il bilancio delle case popolari in un capitolo riconoscibile del bilancio comunale, fuori dal Calderone, criticando poi la regione che nella legge sulla casa non ha inserito provvedimenti per l'amorosità incolpevole che renderebbero inutile il reddito di cittadinanza chiesto invece dai 5 Stelle. Lo stesso Amore ha ribadito che in un decennio il Comune ha versato 650.000 euro di contributi tramite servizi sociali. L'amministrazione, di fronte a una delle sfide più impegnative, intende rendere disponibili almeno tanti alloggi entro l'anno e rafforzare il welfare. L'amministrazione, di fronte a una delle sfide più impegnative, di fronte a una delle sfide più impegnative, L'amministrazione, di fronte a una delle sfide più impegnative, di fronte a una delle sfide più impegnative,